E mi viene da vomita- AAAAAAAH AAAAAH WUH 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 Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ E oggi siamo sul nuovo videogame con l'Oculus Rift Non ho idea di che- giuro che non so che cos'è, però me l'avete consigliato in massa appena è uscito Spero non sia un rage game o un horror, perchè vabbè Quindi bando alle cianze, ciancio alle bande, ciancio alle panze, ci vediamo tra poco Oh yeah, che bello Fanta- Salve You're getting very sleepy Press space to sleep Dedugo che sia un horror, credo Che? Ah, sto dormendo, ah ok, sto dormendo, perfetto Che fisico della madonna Comunque ragazzi, a parte di schia- Ciao Beh, beh, complimenti per l'ambientazione Sono veramente un figo comunque, complimenti Belle, belle le scape della Nike Scus- Che? Buongiorno, ma che bello Sei fermato pure, eh Sei fermato- No, allora, calmi Che è che hai ficato quel tizio? Appello del zio Ascolta un attimo, come che c'è? Ma chi è Gigio? È quello di... È il manichino, non è un manichino, è una persona Ma non ha la faccia Ascolta zio, come cazzo ci sei finito lassù? Fammi capire Beh, bello Sei veramente un tipo sexy, complimenti Pay to park or die Cosa cazzo ho appena visto? Ragazzi c'è un tizio in botta sul marciapiede Non so se è normale sta cosa Che cazzo fai tu con le bolle? Questo fai le bolle, mica Come i bambini Ascolta zio La prendo Sì Non l'ho presa Ecco, perfetto Salve Quella è l'uomo Come sa... Quella ha mangiato parecchi hamburger Buono a sapersi Ottima partenza Salve Ok Ascolti, signor corvo Dov'è? Ah, è andato via È andato pure a puttare Cos'è? Devo riuscire a capire ancora cos'è Morte imminente Perfetto Grazie nel cartello Adesso sono contento Che? Raga Mica Madonna manco Schumacher Vai così Vai così Che bei posti Vabbè siamo in vacanza Non so Michael Jackson Oh yeah Oh yeah Oh yeah Quello non l'avevo visto Non l'avevo... Giuro che non l'avevo visto Ragazzi Sta diventando Tragico sto gioco Ma siccome è tutto così allegro Perché non cantiamo una canzoncina divertente Tutti quanti tipo Nella vecchia fattoria Io quella è la vecchia fattoria? Nella vecchia... No A giudicare dalla musica Mi sa che è la casa della famiglia Adams Però Nella vecchia fattoria Che cazzo se salite però Cioè io vorrei capire come... Come fa un carvetto della minchia Come questa a salire Ste cose Raga Raga perché c'è sta musica brutta Raga Ragazzi Non, 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 non Soffro i vertigini Soffro i vert... Che è? Che cazzo è successo? Ragazzi Che sta musica di... Mi viene da vomitare? AAAAAH AAAAAH Sì ho capito Non l'ho fatto Turn around Girati Salve Ascolti Mi taglia i capelli con quel cosa No eh Raga dove cazzo siamo? Cos'è? Cos'è sta roba? Che cazzo sono raga? Bello Sono in una... Sono in una... Sono in una... Vagina? Ma che cazzo ha fumato sto tizio prima di andare a dormire Fatemi... Che poi questo dovrebbe essere un sogno credo eh Io non ho mai visto niente di più sexy È sparito Come è sparito? Dove è andato? Non è che mi piaceva Ragazzi Salve Buongiorno Ascolti Io le posso fare un massaggio Vedo che è molto teso Se mi fate spuntare dei ragni vi ammazzo la mamma eh Ti ammazzo anche a te la mamma Una lavata di denti anche Non è che ti starebbe male Comunque Menti qualcosa Mi ha abbracciato ed è caduto il microfono Fantastico Gioco dell'anno Giuro Complimenti veramente perché c'è Tanta roba Perfetto ragazzi Siamo su Alien Makeout Simulator Devo baciare un alieno credo Kiss a photo and your dreams will come true Ok Cioè prima ti ha già scritto Baccia una foto E i tuoi sogni si avverranno Certo Ascoltami Sono tutti e due Veramente Ma veramente sexy Però io sono un maschio Quindi vado sul meno peggio Io ti do questo bacio In segno d'amore Ecco perfetto Ma salve Sei veramente una figa della madonna Ascoltatemi ragazzi Allora io vi insegnerò come Come rimorchiare una ragazza Quindi prestate attenzione Allora Tu sei la donna della mia vita Tu lo sei Vieni qua Dove cazzo sei Dove cazzo sei Perché parte della dubstep Quando do un bacio a sta tizia Tipo Che è successo Che sexy Che cazzo Ragazzi è bruttissimo Che cosa gnocca ragazzi Che schifo È una roba orriba Ascoltami Eccoci qua È questo che si prova ad avere una ragazza alta Io dovevo fare il latino Guarda lì Che cosa sexy Prima lezione ragazzi Allora tutti gli uomini ascoltino me Perché ci penso io Allora Ad un appuntamento Prima la guardate dritta negli occhi E le dite Ehi Non ho mai visto niente Niente di più bello Mi sto perdendo Mi sto perdendo nel tuo oceano L'oceano che hai negli occhi Che cazzo parli Vieni qua e dammi un bacio focoso Ecco Che cazzo fai con gli occhi E la madonna Ma devo fare parkour Per darti un bacio Devo baciarti Vieni qua Che sexy Ascolta zia Cioè partiamo? No eh Devo baciare tre boc... Non ne basta una Tre Ma sta roba qua che ho al posto del naso Si usa anche per riprodursi? No Giusto per capire Non lo so È una roba tipo Ma perché mi guardi così? Ho paura È una roba Posso berti dal bicchiere? O ti incazzi? Scusa Io voglio sapere Ma chi è la persona frustrata Che ha inventato? Perché qualcuno Deve averlo fatto sto gioco Chi è che la fa? Voglio sapere chi l'ha fatto Voglio esigo saperlo Vieni qua gnocca Della madonna che sei Hai mai pensato Di fare copertina Per una rivista? No sei veramente figa Te lo dico Che cosa triste Si vabbè Ma è un macello Come faccio a baciarti ovunque Si Let's just be friends Rimaniamo soltanto amici Amici Pienzonato da un cazzo di alieno Ma è possibile? La mia promotion è soddisfa A qualsiasi donna Sta frase può essere malintesa Brutalmente Tesoro non si può dire Che chi sta con te Non fa stretching È una roba tipo Sì Fa piacere che stai vomitando Della merda Dalla bocca adesso In questo momento proprio Mi invoglia proprio a baciarti Tesoro Ascoltami Ce l'ho fatta L'ho conquistata Let's get out here Andiamo via di qui Eh certo Io ci so Io ci so fare Con le donne ragazzi Adesso posso fare anche l'altro No ma l'altro è un maschio Vabbè ci Sarà un po' gay la cosa Vabbè Tanto No vabbè ma non ce la posso fare Cos'hai la Dimmi che Dimmi che quella è una bocca Dimmelo Ascoltami Sei Giuro che Come si esce qua Grazie Tanto sei uguale alla tipa di prima C'hai solo il vestito diverso Sì Vengo qua spesso Mi fa piacere che mi hai detto questa cosa Sei molto Sì Che bello Ascolta Ragazzi non ce la posso fare Non sono schillato su questo tipo di relazioni Ragazzi Però ci provo uguale E' bello Complimenti Veramente sensuale Il tuo sguardo mi fa perdere la testa Giuro Io ho paura della risposta che mi darà la Ma perché si scaccolano dalle bocche ragazzi Perfetto Ho vinto io Ci ho fatta Rimaniamo amici Sì perfetto Guarda Assolutamente sì Condivido in pieno ragazzi Per me va bene così Comunque ragazzi ho concluso Spero che vi sia piaciuto questo tutorial Dallatin lovers Come conquistare una donna E un uomo Alieni Quindi ragazzi Spero che vi sia piaciuto Scusatemi se l'episodio è durato poco Ma ho unito due gameplay Perché se no era troppo corto Se volete far avverare i vostri sogni Seguite questo tutorial E sarete Perfetti al primo appuntamento Credetevi Però prima di concludere Ragazzi mi dovete dire una cosa Ma cos'è questa roba Che sembra un cetriolo Che ho al posto Cos'è Ditemelo Voglio saperlo D'accordo ragazzi Se il video vi è piaciuto Come al solito Lasciate un commento Mi piace Anche a pagina di facebook E come in ogni video Tratta nella descrizione Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Ci rivediamo Nel prossimo video Bene ragazzi Ciao Ciao Ciao